Poi abbiamo però anche una chicca di qualcosa su X, anzi cominciamo con la carrellata di X e questa grafica che vediamo è stata prodotta da Dazon sui social con Barzagli, giustamente Barzagli viene intervistato su Dazon News, Barzagli che fa parte di Dazon viene intervistato a Dazon News, Barzagli ovviamente è una persona molto equilibrata e equidistante, dice si parla di bel gioco ma conta il risultato, chi se lo aspettava mai che Barzagli potesse dire una cosa del genere, allenare la Juve significa anche gestire le pressioni, è normale, tra l'altro voglio dire non abbiamo visto prime pagine di Gazzetta perché non ho trovato prime pagine di Gazzetta allegriane in queste due settimane, quindi ne diamo atto, io vi mostro i contenuti allegriani, anche qualcosa di non allegriano se si trova, se si trova ma si fa grande fatica però a fronte di nulla da parte di Gazzetta dello Sport e di solo una prima pagina allegriana da parte di Tutto Sport avete visto quante ce ne sono state da parte di Corriere dello Sport ma per quanto riguarda Zazzaroni abbiamo un tripudio, abbiamo un'esplosione di entusiasmo in questo episodio che da questo punto di vista è di grande festeggiamento. Sempre su Dasone, sempre su X troviamo anche l'intervista di Matri, un altro personaggio assolutamente equilibrato ed equidistante, a Rabiot, riservato Matri e Rabiot da domani su Dasone, lo show di Allegri visto dal campo, la presenza fondamentale del mister bianconero, ora io non sono abbonato più a Dasone il che farebbe di me uno gioventino vero, invece sembra di no, ed infatti mentre voi mi state ascoltando, se mi state ascoltando o comunque si sta svolgendo la partita, io non la sto guardando in diretta, però ho visto gli spezzoni, ho ascoltato un po' gli spezzoni pubblicati sui social da parte di Dasone di questa intervista clamorosa, bellissima, intervista a Rabiot in cui addirittura Matri dice siamo entrambi figli di Allegri, tutta un'esaltazione di Max, cioè tu intervisti Rabiot e si parla solo di Allegri, però notiamo una cosa, possiamo far notare una cosa, che Rabiot in questa intervista, sapete cosa dice? che ribadisce anzi che è stato Allegri a voler la sua permanenza, a convincerlo a restare, quindi quando si dice che Allegri purtroppo, poverino, deve avere a che fare con una rosa scarsa, si sappia che la rosa scarsa, se è scarsa, l'ha allestita lui così, alle sue responsabilità, evidenti, palesi, nette, perché? Perché lo dice Rabiot e non soltanto lui che è andata così, è stato lui a convincere, quindi non possiamo mandare esempi Allegri dalle sue responsabilità, in questo senso. E quindi per dire, c'è stato anche questo, è uno dei contenuti, ma infatti io vi mostro una carrellata lunghissima, e spero di stare dentro la fine della partita, ma ho dovuto selezionare, ho dovuto tagliare e ridurre, tante cose le ho trascurate, ma sarebbero state comunque importanti. Proseguendo su X e sempre su Dazon riprendono così il 16 novembre, cioè la partita si è fatta, qui tra l'altro stiamo parlando di quando, perché vedo dietro questo cos'era, era con la Fiorentina, quindi ancora dietro, cioè non lo so, il 16 novembre fanno riprendere questo video di Allegri a Firenze. Rugani intervento salva risultato alla Barzagli, Siparietto con Allegri e l'ex Juventus di studio. Ma che cosa, ma che roba, ma che ce ne frega del Siparietto tra Allegri e Barzagli? Ma insomma, ma cioè cos'è, ma è Dazon o è una testata tipicamente Allegri a? Non lo so, però non è la prima volta che Dazon ci suscita questi dubbi, quantomeno, ma è colpa nostra se abbiamo dubbi sull'integrità e sulla equidistanza ed equilibrio di Dazon. Andando avanti, sempre su X, troviamo invece qualche giornalista, abbiamo tre post di Mirko Nicolino, ce ne sarebbero stati anche degli altri, va sicuro, ma ho tralasciato e incredibilmente fa impazzire, guarda, come mandare la gente al manicomio anche con EAFC24, ex FIFA. Ma questo video mi ha definitivamente destabilizzato Allegri skills, l'avete visto sicuramente, c'è Allegri che fa le skills da freestyler, del calcio, perché è un bug che fa, e dopo addirittura esce anche sui giornali questa notizia, cioè notizia, lo pubblica anche su Geo per carità, perché devono fare click, però chissà, magari è l'unico bug che c'è in questo gioco? Non c'è nessun altro allenatore che palleggia? Ah, nessuno? Io chiedo, non lo so, non lo conosco, non lo uso, ma mi pare strano che questo bug sia solo su Allegri, perché due sono le cose, se il bug riguarda solo Allegri, allora uno deve chiedersi come mai, come mai abbiano fatto un bug su Allegri per attirare l'attenzione sul gioco tramite Allegri, chi è che ci guadagna in termini di visibilità? Se invece riguarda anche altri allenatori, ci si chiede come mai i giornali parlano solo di questo bug, non ci sono accorti anche che magari pure altri allenatori palleggiano e fanno i freestyler, ma Mirko Nicolino, a Mirko Nicolino non sfugge nulla e quindi pensa di mandare gente al manicomio, però lui non è Allegriano, assolutamente, cioè non gliene frega nulla di Allegri, però pensa che così la gente va al manicomio, perché? Chi va al manicomio, forse gli antiallegriani, è un attacco agli antiallegriani, chiedo, lascio la domanda lì. Poi ancora, sempre Mirko Nicolino, come dicevo ieri sera, Juventibus, Sule è uno dei giovani in cui la Juventus, Allegri in testa, ha sempre creduto senza induggi, senza induggi, infatti l'hanno mandato a Frosinone senza induggi. L'anno prossimo, l'anno prossimo, a prescindere dalla guida tecnica, ah, perché forse potrebbe cambiare, rientrerà in prima squadra con il plus di esperienza maturata a Frosinone. E come mai? Cioè, ma che senso ha? Questo per riprendere una notizia di Nicolò Schira, che i piani della Juventus per Matias Sule sono di estendere il contratto fino al 2028, e poi farlo tornare nella prima squadra la prossima stagione. E Nicolino, chiosa, dice, ma io lo sapevo, lo sapevamo, si è sempre creduto tanto, talmente tanto, da mandare a Frosinone, però ha il plus della maturazione. E quindi perché Sule può maturare a Frosinone e non restare all'Allegrentus a maturare? Perché si crede in lui, chiaramente, perché si crede in lui. Sempre da parte di Mirko Nicolino abbiamo poi, abbiamo però questa critica in diretta a Guardiola. Molto bravo questo Oscar Bob, classe 2003, titolare questa sera con la Norvegia. Peccato che Guardiola gli abbia fatto giocare solo 52 minuti in Premier League quest'anno, meriterebbe un minutaggio superiore. Ora, Nicolino è così attento a tutto che si interessa dei giovani che Guardiola, secondo lui, non lancia. Ma ovviamente non è un discorso per dire, smettetela di dire che Allegri non lancia i giovani perché Guardiola fa peggio. No, assolutamente. È peccato che Nicolino è andato a prendere Oscar Bob, ma non è andato a prendere Rico Lewis. Perché Oscar Bob ha fatto 52 minuti. Ildis, che è due anni più giovane di Bob, 2005, 70. Ma Rico Lewis, 2005, come Ildis, ne ha fatti di più di minuti. Ne ha fatti di più, e ci ho fatto un video su questo. Ne ha fatti di più di minuti di Ildis. E di quello però, perché questo ovviamente non è per dire, non vi lamentate che Allegri non fa giocare Ildis. Perché Guardiola non fa giocare Pop. No, non è per questo. Perché non è che Mirko Nicolino è letto come altri da Allegriani o presunti tali che se gli dice una cosa del genere non vanno a verificare Rico Lewis, che non sanno manco chi è, evidentemente. No, non è per questo. Cito per la prima volta poi in questa carrerata anche Antonio Corsa, che io non conosco personalmente, con cui non ho mai interagito, ma che so che molti di voi conoscono. Perché ho visto questi suoi due post e mi sono fatto delle domande. Tra l'altro Antonio Corsa, da quello che dichiara, ha sempre avuto una qualche conoscenza diretta di vari dirigenti della Juventus, tra cui mi sembra Francesco Calvo. È una persona che sta nel mondo del dibattito juventino da un sacco di anni. E quindi è una persona ben informata, con una credibilità e una visibilità. E dice, quest'anno non chiedo niente ad Allegri. Partiamo malissimo. Va bene pure sto 352 fino alla fine, se preferisce. Basta che arrivi nei quattro. L'anno prossimo però si dovrà fare spazio vero a il dis. Su Le e, sperando resti, i Ling Junior. Devono fare al massimo, da prima riserva, meglio se in un 4-3-3. Perché l'anno prossimo? Antonio, perché l'anno prossimo? Perché quest'anno non chiedi niente? Perché quest'anno Allegri non gli pagano lo stipendio? E quindi tu non gli chiedi niente? Perché quest'anno è un anno di transizione? Non ho mai sentito parlare di anno di transizione. Chi ha detto che questo è un anno di transizione? Non mi risulta. Non mi risulta che abbiano dichiarato che è un anno di transizione. Sì, fanno finta che non devono vincere nulla, che basta il quarto posto. E quindi tu ti adegui insieme ad altri. Perché, non lo so, c'è in qualche modo un condizionamento aziendalista? Si evita di criticare? Si evita di criticare per non inimicarsi qualcuno? Chiedo, perché a un certo punto uno domanda ma com'è possibile che ad Allegri non chiedi niente? Niente, non chiedi niente. Va bene pure il 3-5-2 fino alla fine. Così, se preferisce lui. Però l'anno prossimo? Però l'anno prossimo si deve fare spazio vero. Quindi si riconosce che quest'anno non si fa spazio vero, ma è spazio finto a il dis su Le che è stato mandato via, Healing che forse se ne va addirittura e lo perdi perché non viene fatto giocare. L'anno prossimo. E ogni anno l'anno prossimo. No, l'anno prossimo, quest'anno no, l'anno prossimo. Ma c'è un altro posto di Antonio Corsa, forse peggio. Precedente, che è precedente anche all'ultimo appuntamento di questa rassegna, è del 6 novembre, quindi è prima dell'ultima partita di cui vi ho parlato, è del giorno dopo la partita del 5 novembre. Vorrei essere chiaro, pure qui come lo sono a voce, nei suoi dibatti, nelle sue call su Discord e d'altro, se anche grazie all'assenza delle coppe, che per me pesa tantissimo, vedi Lazio l'anno scorso, Allegri è in alto, pesa tantissimo in positivo, cioè ti può far fare più punti, Allegri è in alto, Allegri è in alto, non gli si può dire niente. Non lo si scopre oggi, il suo gioco è speculativo, ma se produce punti fa il suo. Ma che discorso è? Allora azzeriamo le prestazioni, ma che le guardiamo a fare le partite? Che le guardiamo a fare? Questa è la giustificazione ideologica dell'Allegrianesimo. Cioè questo è Allegrianesimo, cioè significa essere Allegriani e fare dell'essere Allegriani una filosofia, una setta, una religione, una cultura, un'identità. Mi sbaglio? Forse interpreto male, ma che significa Allegri è in alto? Cioè contano solo i punti? Contano solo i punti? E allora perché gli dai 7 milioni? Perché fa punti, gli altri punti non li fanno. Perché gli hai comprato tutti i giocatori che voleva e anche quelli che non voleva e gliele hai fatti anche buttare via alcuni? Perché? Perché deve fare punti? Se produce punti, fa il suo, non gli si può dire nulla? Dobbiamo assistere a questo spettacolo scabroso? Chiedo eh, chiedo per aprire un dibattito, magari un canale di confronto, perché questi due post mi hanno fatto rabbrividire, me li sono tenuti lì, ho detto qualcosa bisogna dire su questo, nell'ambito di questa rassegna che vuole raccontare quanto, quanti allegriani o quanto allegrianesimo appunto ci sia in giro. Ma su Gazzetta però, su Gazzetta anche se abbiamo delle analisi, c'è anche, c'è anche l'intervista a Galeone, non poteva mancare, hanno scongelato Galeone anche questa volta. Galeone, Allegri insegna calcio, insegna calcio, non sappiamo che tipo di calcio, però insegna. Contro l'Inter non penserà solo a difendersi. E come sta andando? Com'è andata? Il papà calcistico di Max mi chiama prima delle partite per Scaramanzia, dice, è contento della squadra, i giocatori lo seguono, mica come qualche campione l'anno scorso. Eh, qualche campione l'anno scorso non lo seguiva, tipo Di Maria. Eh, vedi? Vedi? Allora è vero che Allegri l'ha mandato via lui, Di Maria? Cioè, è stato Allegri a determinare, perché Di Maria non seguiva Allegri, e Allegri non l'ha fatto restare. Mi sa che doveva aspettare, e che doveva aspettare a chiamarmi. Prego, Max lo sento sempre il giovedì o il venerdì, ogni settimana, da quando ha perso con il Sassuolo, insomma, la telefonata del giornalista Marco Guidi è arrivata in tempestiva. Lui dice che mi chiama perché mi vuole bene, ma io so, dà una vita che è un grande scaramantico. Giovanni Galeone, il papà calcistico di Massimiliano Allegri, l'ha allenato per anni in Serie A tra Pescara, Verugge e Napoli. Da calciatori, da calciatori, lui e Gasperini avevano già intuito, già l'intuito del tecnico. Soprattutto, Allegri e Gasperini, che ha vinto Gasperini, si accorgevano in campo delle situazioni tattiche che correvano da me a riferire. Erano gli unici con questo Acume. E infatti, il discepolo, quando l'attuale allenatore della Diventos ha appeso le scarpe al chiodo per iniziare a sua volta l'avventura in panchina, l'ha accompagnato nel percorso, portandolo anche con sé come collaboratore tecnico all'Udinese nel 2006-2007. Però non si dice che Allegri si propose nel suo primo incarico da allenatore e la squadra, non sapendo chi prendere, disse ok, va bene, allena tu. E ancora oggi Galeone dispensa al suo discepolo consigli e qualche riprovero. L'ultimo gliel'ho fatto dopo la prima giornata con l'Udinese. Gli ho detto, caro Max, hai fatto un bel primo tempo e vinto 3-0, ma hai concesso 9 tiri nello specchio. Sono troppi. Non bisogna sopprire tutti questi tiri. E infatti, poco dopo è arrivata quella allucinante sconfitta col Sassuolo. Poco dopo, diverse giornate, 3-4 giornate dopo è arrivata la sconfitta col Sassuolo, però Galeone l'aveva detto, troppi tiri concesso, troppi tiri. Galeone è stato al solito bravo ad apportare dei correttivi, dice ancora Galeone, ma Max è dall'estate che è contento della squadra. Dice che i giocatori lo seguono e hanno voglia di crescere e migliorare. Mica come qualche campione che c'è l'anno scorso. Alt, ci vuole dire che Allegri ora preferisce addirittura allenare i giovani? Non esageriamo. Ah, ecco, ecco. Max sa bene che nel calcio esistono le categorie e lo ripete spesso pure a voi giornalisti. Ricordo quando andò al Milan e dopo due settimane a Milanello con Ibra, Sedorf, Pirlo, Ronadini e compagnia mi telefonò Mister, questi sono dei fenomeni che devo chiedere di più? Che devi chiedere? Non devi fare niente. Se però i campioni pensano a se stessi e non alla squadra, eh, capito? Servono i campioni che devono pure pensare alla squadra. In pratica l'allenatore non serve, però serve Max strapagato. Pure il Max Calciatore era un estroso? Sì, ma non ha mai anteposto se stesso alla squadra. E questo ci fa dato merito. Ed l'allenatore è rimasto fantasioso insegna calcio, insegna calcio. Guardate cosa sta facendo con Chiesa o l'ultima invenzione di Cambiaso Mezzala. Una cosa alla Galeone. Nessuno aveva mai gestito così male, cioè così bene Chiesa. Nessuno aveva mai inventato un terzino Mezzala. Usciamo dai giornali e vediamo invece dichiarazioni sparse. Per esempio, Caressa. Caressa, non poteva mancare Caressa se c'è Zazzaroni. Otto giocatori dell'Inter sono più forti di Otto della Juve. Siamo sicuri che Allegri sia scarso? Aspetta, aspetta, forse non ho capito. In un suo, in un video che ha fatto lui dice forse giocherebbe Scesni ma con Sommer siamo lì. Forse Bremere per De Frey. A centrocampo nessuno, cioè scambiando praticamente le rose. Volevo trovare un posto per Rappio ma preferisco Ciananoglu, Mighetari, Ambarella e anche Pratesi. Kostec di Marco, tutto sommato prendo Di Marco in questo momento. Poi faccio giocare Chiesa per Turam anche se Chiesa è un po' più individualista mentre Turam gioca più per la squadra e fa segnare Lautaro. Se la differenza è questa e cioè che otto giocatori della Rosa e l'Inter sono più forti di otto giocatori della Rosa e la Juventus e gli altri tre stanno lì. Siamo proprio sicuri che sia scarso quello che guida la Juventus? Sapete che ho un debole per Allegri ma così stanno le cose. Questa è la Juve e questa è l'Inter. Cioè lui esprime le sue opinioni, le sue valutazioni e così stanno le cose. Ancora una volta le opinioni che diventano fatti, i fatti che vengono sostituiti dalle opinioni. E poi lui ha un debole per Allegri. E meno male che lo dice. Ha un debole per Allegri. Grazie per averlo detto apertamente. Grazie per questa dichiarazione aperta a Zazzaroni, a Carezza. Sono venuti fuori, insomma. Si sono dichiarati e sono le sue valutazioni. Cioè lui dice che è così. Ma se è così, chi li ha allenati i giocatori dell'Inter e quelli della Juve, dell'Allegrentus? Come fa a dire che non è scarso l'allenatore se questi non sono così forti? Se nel non essere così forti c'è la mano dell'allenatore? È incredibile. Continuano ancora con la storia. Cioè l'allenatore allora cosa fa? Cosa fa? Porta i punti. i punti così cadono dal cielo. Ma poi abbiamo anche Tacchinardi. Tacchinardi a TMV Radio dice Allegri non era scarso prima e non è un fenomeno ora ma è un vincente. Ecco, l'anno scorso è stato criticato anche per delle pessime prestazioni della Juventus. Se la squadra fa male le critiche costruttive ci stanno. Ecco, indubbiamente i bianconeri hanno fatto male. Ha parlato anzi a TMV Radio cioè a tutto mercato web. Indubbiamente i bianconeri hanno fatto male pur io mi aspettavo di più e lui è il primo responsabile. Ecco, non sappiamo quanto abbiano pesato le problematiche societarie e magari ha lavorato in una baronda importante. Però questo è l'anno scorso. Cosa dice invece? Tornando all'attualità Allegri ha anche dei meriti per Tacchinardi cioè ora non ha stravolto tutto ma Giuntolo gli ha dato una colonna portante su cui poggiarsi. Adesso è giusto che si prenda gli elogi ma non era scarso prima non è un fenomeno adesso. È un bravo allenatore può piacere o no ma è sicuramente un vincente. Ecco, può piacere o no ma è un vincente. Cioè, se vince vince lui se perde non perde lui evidentemente. Curiosamente abbiamo Sacchi attenzione a Sacchi attenzione a Sacchi che ha rilasciato l'intervista a Gazzetta la riprende Juventus News 24 Sacchi Allegri superi a Inzaghi tatticamente se l'Inter giocherà così finirà per perdere Cominciamo col dire che è la sfida tra due grandi squadre che hanno speso di più e dunque sarebbe lecito attendersi momenti di spettacolo aggiungiamo anche che gli allenatori Allegri e Simone Inzaghi sono due tattici e probabilmente Allegri ha un livello superiore rispetto al rivale punta su compattezza difensiva forza fisica e ripartenze grazie alla velocità di Chiesa e di Ken ecco, se l'Inter riposterà la gara in questo modo e cioè se penserà di fare difese contro B finirà per perdere perché è semplice la Juve in questi fondamentali è superiore dunque i nerazzurri dovranno organizzare una sfida fatta di attenzioni di aggressione e massima partecipazione di tutti alla manovra così possono mettere in difficoltà la Juve e dare un segnale forte al campionato buon divertimento così Sacchi a Gazzetta dello Sport allora sappiamo che Sacchi praticamente non sopporta Inzaghi ma addirittura dire che Allegri è tatticamente superiore a Inzaghi ci vuole un bel coraggio però accettiamo anche questo opinione se persino Sacchi che ha litigato pubblicamente in tv con Allegri o meglio è stato ricevuto la mancanza di rispetto da parte di Allegri anni fa lo elogia e siamo veramente alla frutta e siccome allora abbiamo chiuso chiudiamo definitivamente con Marianella ripreso da FC Inter 1908.it Allegri sta facendo un piccolo grande miracolo Marianella pure lui di Sky quindi abbiamo Di Canio Marianella Zazzaroni Caressa e tutti gli altri ma gli allegriani non esistono la Juve ha stupito tanto soprattutto in difesa il campo ha detto che la Juve fa una fase difensiva strepitosa a volte anche eccessiva se porti la maglia della Juventus ma quello che contano sono classifiche e risultati il reparto difensivo è allenato benissimo Allegri sta facendo un piccolo grande miracolo il roster dell'Inter è per distacco il migliore della Serie A l'Inter è prima ma la Juve è lì se vince e se vince sorpassa l'Inter bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti